In occasione dell'inaugurazione della quarta edizione di Ecomob Expo Village 2021, in programma da oggi venerdì a domenica 4 luglio al polo espositivo del porto turistico Marina di Pescara, il Comune ha allestito un proprio stand come punto informativo e di confronto con i cittadini. I temi sono quelli legati alla mobilità sostenibile che l'amministrazione sta sviluppando, con azioni per promuovere e realizzare infrastrutture di mobilità urbana e ciclabile. L'assessore Luigi Albore Mascio ha fatto il punto sugli obiettivi raggiunti e ha parlato delle prossime iniziative in programma a Pescara nel breve periodo. Assessore, il Comune di Pescara partecipa a questa iniziativa? Partecipa e sostiene questa iniziativa della Camera di Commercio con gli organizzatori di Ecomob, un'iniziativa che ormai è diventata tra le più importanti in Italia su questo settore, quello della mobilità, della mobilità sostenibile, del tempo libero, del turismo. Qui in questo spazio espositivo c'è un po' di tutto e c'è anche lo stand del Comune di Pescara. Scopri il nuovo modo di muoversi in città, quali saranno le novità per la città di Pescara? Beh, intanto io devo dire che c'è stato uno scatto negli ultimi anni notevole in città, c'è stato un cambio culturale, abbiamo in qualche modo verificato attraverso i nostri contabici che in poco più di due mesi abbiamo avuto oltre mezzo milione di passaggi in bicicletta in città in quattro punti strategici della città. Questo è il segno di un cambiamento, è il segno della direzione che la città di Pescara ha preso in linea con i paesi europei più evoluti. Ci sono altri tracciati ciclabili da realizzare, vogliamo arrivare ad un obiettivo che è quello di 50 km di piste ciclabili, che vuol dire un rapporto di 1 a 6, 350 km di strade in città a disposizione delle auto, raggiungiamo un obiettivo che è quello di un sesto rispetto appunto alle nostre strade fruibili. Ma poi avremo il bike sharing, 250 biciclette che saranno presto disponibili, sempre col sistema del free floating, avremo anche delle moto, moto elettriche, 50 moto elettriche e poi avremo una ciclostazione all'interno della stazione di Pescara Centrale, con un accordo a tre con rete ferroviarie italiane e lega ambiente avremo un punto di riferimento oltre quello già presente a Porta Nuova, anche l'evoluzione del trasporto pubblico locale, nei prossimi anni noi avremo il filobus, avremo quindi un'offerta di infrastrutture per i cittadini pescaresi molteplice, non dimentichiamo le colonnine per le auto elettriche, insomma se l'obiettivo della Commissione Europea nel 2050 è quello di raggiungere la neutralità climatica, un obiettivo ambizioso pescare in linea con tutte le altre città più moderne e più evolute perché questa città sia smart, sia a misura d'uomo e sia soprattutto una città che va a premiare la qualità della vita e dell'aria a vantaggio soprattutto delle giovani generazioni.